Io la voglio tanto bene Elisa perché è una persona trasparente, ce la guardiamo insieme alla luna calante, bellissimo, le stelle, la notte è stra piena di stelle. È davvero la mia isola Ilona Staller, una sorpresa. Comunque è davvero bello vedere questa alleanza tutta femminile senza strategie, fatta di sorrisi. Voi potreste trasformare quell'isola nell'isola di Saffo che non mi ricordo come si chiama. E perché, beh come? In Grecia forse. Ma sì. Sarebbe bello un tocco di quella cosa lì. E l'ha lì. Anche perché cicciolina tu quelli già li hai provati. Vladimir. E l'ha detto il calcio. Potrebbe nascere qualcosa tra quei due. Vladimir. Vladimir, Vladimir io posso soltanto dirti una cosa, che la vita è in debito con me. Purtroppo per aver perso un figlio, ma su questa isola ho trovato veramente una grande amica. Davvero. La voglio bene, la voglio bene. Dolce donna, veramente. Belle. Grazie a tutti.